Con Galdi sì, ma non con Fratelli d'Italia. Si complicano le cose per la composizione della nuova giunta a Cava dei Tirreni. Questa mattina sembrava tutto fatto. I Fratelli d'Italia avevano dato l'assenso ad entrare in maggioranza e gli Azzurri, dopo l'incontro di ieri tra Marco Galdi e parlamentari Maurizio Gaspare e Renzo Fasano, apparivano pronti a siglare l'alleanza. Ma è cambiato tutto. Chiarissima la posizione espressa dal PDL Forza Italia che ribadisce le proprie perplessità sull'apertura e la gestione di una crisi politica nata in nome di una richiesta di discontinuità. Una presa di posizione assunta dopo il faccia a faccia tra i consiglieri comunali Enrico Polacqua, Annalisa della Monica e Massimo Esposito con il commissario cittadino Gigi Cascello. I forzisti hanno apprezzato la volontà del sindaco di confermare i tre assessori di area PDL Forza Italia e hanno confermato altresì la disponibilità a sostenere l'amministrazione Caldi sui temi programmatici indicati nell'intesa sottoscritta nell'aprile scorso, con priorità per il completamento del trincerone ferroviario, il relativo sottovia e il contratto di quartiere. Ma gli Azzurri dicono no a condividere questo percorso con il gruppo Fratelli d'Italia, la cui azione politica, si legge nel documento pubblicato questa mattina, a livello locale, provinciale e nazionale è stata di chiara contrapposizione al PDL Forza Italia e che a Cava dei Tirreni si è sostanziata con una serie di pubbliche dichiarazioni aspramente critiche, se non offensive, nei confronti dell'amministrazione. A questo punto si mette male per il sindaco Caldi. Da un lato alla disponibilità degli uomini di Edmondo Cirielli, pronti anche a fare i nomi di due assessori, probabilmente in rosa, e dall'altro gli alleati della prima ora che non vogliono sentire parlare di Fratelli d'Italia. Intanto il bilancio incombe e si rischia di lasciare la città in mano ai commissari se non si trova al più presto una soluzione condivisa. Grazie a tutti.